Da San Giovanni Rotondo quest'oggi ci spostiamo a Pompei, un altro grande santuario mariano che vede nel beato Bartololongo davvero la sua anima e il suo pilastro. Il beato Bartololongo è il protagonista della puntata di quest'oggi di Toccati da Dio ed è un grande figlio spirituale di Padre Pio, vero Francesco? Sì Leo, proprio perché Bartololongo ha definito subito, sin dai primi anni in cui cominciò a conoscere Padre Pio da Pietrelcina come un santo vivente. C'è un'espressione che Padre Pio ha donato a Bartololongo proprio su Maria a cui lui era molto devoto. Maria ti guardi sempre con occhio materno, ti conforti nelle tue afflizioni. Questa è una frase di Padre Pio che appuntò dietro ad una piccola immagine della Madonna del Rosario, però un'immagine francese che Padre Pio ha donato a Bartololongo e che ho ritrovato all'interno degli archivi del santuario della Basilica di Pompei, abbiamo anche pubblicato sul numero di novembre del 2019 quando abbiamo dedicato attenzione tra i diversi figli spirituali anche a Bartololongo. Si tratta di una piccola immaginetta della Madonna del Rosario che risale al 1922. Proprio per questo andando a ripercorrere la vita di questo straordinario uomo della Chiesa che ha fatto tanto, si è convertito e ha portato alla conversione e credo che attraverso la sua missione ancora oggi tanti, tanti invocando e pregando Maria tornano nuovamente alla fede. Bartololongo è nato come ben sappiamo in un'altra regione, a Latiano, quindi siamo in Puglia, Brindisi il 10 febbraio 1841. Studia giurisprudenza, prima a Lecce poi a Napoli, quindi va incontro ad una carriera straordinaria la sua, ma come spesso accade per questi grandi uomini che amano anche la vita, ha delle compagnie particolari, quindi dei massoni, entra a far parte di un piccolo gruppo di massoni dove lui si va a definire un vero e proprio sacerdote di Satana. Le conseguenze non tardano proprio perché lui è distrutto anche fisicamente, non solo dal punto di vista psichico, cade in una forte depressione. Qualcuno dei suoi amici per riportarlo alla fede lo prende e gli dice proprio in faccia, sì tu sei un avvocato, ma hai perso la causa della tua vita. Grazie a questo amico entra nel terzo ordine francescano, il suo nome sarà quello di Fra Rosario, già da qui comincia un grande amore di Bartolo verso Maria, torna dai suoi ex compagni, proprio i massoni, per cercare di convertirli, ma non vi riesce, lui viene deriso, viene maltrattato, viene cacciato, lui cerca in tutti i modi di convertirli, ma non riesce. Allora riesce ad incontrare proprio a Napoli dei Santi, oggi Santi, Ludovico da Casoria, Caterina Volpicelli e fu proprio in uno di questi cenacoli, proprio con Santa Caterina Volpicelli che incontra quella che sarà poi sua moglie, la contessa Marianna Farnaro De Fusco, una donna di grande fede che era rimasta vedova a 27 anni, 5 figli, lei cercava un uomo che dovesse anche badare a quelle che erano le tante proprietà. Bartolo era l'uomo giusto di cui se ne innamorò e insieme continuarono una vita familiare. Sia Bartolo che Marianna subito praticarono grande soccorso verso l'umanità sofferente, sofferente. E proprio in questa valle, la valle di Pompei, c'erano una serie di possedimenti agricoli della contessa dove Bartolo doveva andare a riscuotere una serie di affitti, però lì incontrò quella che era la povertà, la sofferenza di tutta quella gente che vi abitava, famiglie letteralmente abbandonate, senza istruzione, perché molti dei genitori erano anche in carcere, quindi una situazione disperata. E proprio in una località chiamata Arpaia Bartolo ha una vera e propria crisi, una crisi dove una voce gli risuona dentro di sé dicendo appunto se cerchi salvezza propaga il rosario, è così promessa di Maria, chi propaga il rosario è salvo. E sull'orlo della disperazione guardando il cielo ci sono una serie di dipinti che ritraggono proprio Bartolo Longo in questo atteggiamento, se è vero che tu hai promesso a San Domenico che chi propaga il rosario si salva, io mi salverò perché non uscirò da questa terra di Pompei senza aver propagato qui il tuo santo rosario. Che poi è il luogo dove sorge attualmente il santuario. Infatti il santuario verrà costruito già dal 1876, inizierà proprio la costruzione, il 9 maggio. Così accennando alla storia di questo straordinario quadro fu una suora, Maria Concetta de Litala, che regalò questo quadro che per la contessa non era altro che una vecchia logora, una vecchia tela logora bucherellata dalla tignola che non voleva, ma Bartolo a lui piace questo quadro con Gesù bambino in braccio, con la Madonna quindi in trono che porge la corona del rosario a San Domenico, quindi la vergine Santa Caterina da Siena, così a parere della contessa era un vecchio quadro, però lui si fa portare questo quadro che per la prima volta giunse in questa piccola chiesetta, la parrocchia del Santissimo Salvatore, su un carro che trasportava anche le tame. Quindi viene portata la Madonna in questo luogo e da lì nasce tutto, nasce anche la storia del santuario che conosciamo benissimo. Una storia che viene prima della nascita di Padre Pio addirittura. Infatti, proprio per questo. Padre Pio era un grande devoto della Madonna del Rosario, tanto che ci andava da ragazzino. Aveva 14 anni quando la prima volta lui ci andò e con una sorta di gita che fecero, quando già Bartolo aveva consegnato e donato questo santuario e tutte le opere alla Santa Sede, nel 1887 nasceva Padre Pio, quindi dopo la prima volta ci ritorna una seconda volta nel 1911 quando doveva essere accompagnato a Venafro da padre evangelista, poi ancora ci ritorna da una licenza militare il 3 gennaio del 1917. Sicuramente Bartolo Longo viene a conoscere Padre Pio attraverso i giornali quotidiani come accade spesso e è accaduto spesso per tantissimi, quando si viene a diffondere la notizia di questo frate Cappuccino con le stimmate che vive a San Giovanni Rotondo. Infatti nel 1922 c'è una lettera di Bartolo Longo che racconta la guarigione di una sua figlia spirituale, infatti una sua figlia spirituale si ammala gravemente, fiduciosa nelle preghiere proprio del suo padre spirituale, questa signora si rivolge proprio per un aiuto spirituale ma soprattutto delle preghiere. Bartolo Longo le scrive proprio, ecco io vado sul virgolettato per non sbagliare, le scrive questo, innanzitutto le invia una reliquia di Padre Pio e dice di affidarsi a questo frate Cappuccino e poi la risposta, ho appreso con vivo compiacimento che le è cessata la febbre e le è guarita dal momento che ebbe nelle mani la reliquia che io le mandai del santo vivente Padre Pio da Pietrelcina. Allora insieme ringraziamo il Signore, scrisse Bartolo Longo. Quindi una vera e propria amicizia spirituale, un affidamento dello stesso Bartolo a Padre Pio, tra l'altro anche confermata da una serie di documenti che sono conservati nell'archivio della Basilica di Pompei. Infatti nel 1921, quindi prima di questo episodio, era Bartolo Longo che scriveva a Padre Pio esprimendo tutta una serie di difficoltà per la nascita di una sua terza opera, una opera sempre che puntava sulla beneficenza, sulla carità, a favore delle figlie dei carcerati, la sua terza grande opera di beneficenza. L'11 novembre del 21, Padre Pio prende carte e penne e scrive all'amico Pompeiano che scrive non approvo affatto la titubanza della vostra consorta nel volere il villino in valle di Pompei a favore della nascitura istituzione, quindi mi fa temere mali maggiori e via sia più generosa che la Signora e sia pur certa che la Vergine non lascerà remunerazione per una si bella azione fatta in suo onore. Quindi Padre Pio che in un certo senso invogliava, benediceva anche questa terza opera affinché si andasse incontro a quello che era il progetto iniziale di Bartolo andare a favore degli altri, coloro che non avevano, ecco soprattutto dei più piccoli, non avevano un tetto, una casa, un luogo caldo dove poter mangiare. Un'opera che continua ancora oggi nel santuario di Pompei che è meta di milioni di pellegrini ormai possiamo dire da anni e anni, tra l'altro ricordiamo che di recente una copia del quadro della Madonna di Pompei è stata qui a San Giovanni Rotondo per un pellegrinaggio davvero molto molto particolare. Grazie Francesco e grazie a tutti quanti voi. Grazie a tutti.